Per la prima volta nella mia vita mi sono veramente innamorato. Signori, Elena Martini Goodman, la donna che voglio sposare. Non puoi. Sei già sposata. Ho conosciuto una vacanza assurdo in America. Quanto è durata? Oggi, nove ore. C'è l'unica soluzione. Vai alla stessa casa e firmate l'annulamento. Te la fa scappare? E poi c'è quel retro gusto un po' da stronzetta che a te ti piace tanto. È lui? Sì. T'ho disadattato. Passaggio? No, grazie. Ho la macchina che mi aspetta. No, dicevo, mi dai un passaggio, per favore. Ti vorrei invitare a cena. Così almeno festeggiamo il nostro divorzio. Tu per me non sei niente. Abbiamo detto, eh. Oggi tregua. Sei sicura che è tutto a posto? No, è tutto a posto. Elena, hai la situazione sotto controllo? Mi trovi che è sotto controllo, Luciano. Non ti preoccupare, Lorena. Oh, porca troia. È la notte dalle uova. Cazzo, è finita la cartigiana. Io sposerò Gianandrese e una volta scesa da quell'aereo non mi ricorderò mai più di te. Chiaro. Sorpresa. Amore, che bello che sei qui.